Il luglio di ottobre, tradizionale festa degli angeli custodi e anche la giornata dedicata ai nonni. Sono molte le iniziative predisposte in tutto il territorio veronese per festeggiare coloro che spesso sono un punto di riferimento importante nelle famiglie di appartenenza. Quest'anno siamo andati nella sala polifunzionale dell'istituto Virgo Carmeli dove gli alunni provenienti da sette scuole, divisi in due gruppi, sono stati coinvolti con i loro nonni prendendo parte ad uno spettacolo. Oggi è la festa dei nonni e voi cosa avete pensato di realizzare? La festa nazionale istituita dal Parlamento, la vecchia festa degli angeli custodi perché i nonni sono degli angeli custodi che accudiscono i bambini, hanno un ruolo affettivo, educativo ma sociale. Abbiamo appena ringraziato pubblicamente tutti i nonni perché senza di loro noi genitori che lavoriamo saremmo in difficoltà quindi hanno un ruolo da servizio sociale. Oggi è una festa quindi la quarta circolazione organizza uno spettacolino per tutti i bambini delle seconde elementari di tutti i nostri quartieri con i loro nonni e anche i loro genitori si stanno godendo lo spettacolo dopodiché faranno dei canti e delle poesie dedicate ai nonni e poi gli alpini offriranno un rinfresco quindi una festa una festa per i nonni. Ci sono due aspetti nel quartiere ci si conosce quindi i nonni si conoscono con i bambini, si conoscono con le maestre, ringrazio le maestre hanno dato una grossa mano, ci si conosce quindi si fa comunità e poi anche il colore se lei guarda sia i bambini che i genitori che i nonni sono multicolori, ci sono italiani, ci sono cinesi, ci sono arabi di provenienza africana, è molto bello perché anche questo momento serve a fare coesione sociale, fare comunità.